I finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, a seguito di approfondite indagini condotte anche con l'ausilio della componente specialistica del corpo in sinergia con l'Inps, hanno individuato e denunciato 117 soggetti che in provincia di Brescia hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Oltre alla denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria, le fiamme gialle hanno provveduto a segnalare le risultanze investigative alla direzione provinciale dell'Inps ai fini dell'immediata revoca dell'erogazione del beneficio e del recupero delle somme indebitamente incassate quantificabili in diverse centinaia di migliaia di euro. In particolare una recente articolata operazione d'ampioraggio portata a compimento dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia ha consentito di segnalare all'autorità giudiziaria 61 soggetti che percepivano tale beneficio anche se sottoposti a detenzione o destinatari di misura cautelare. Tra questi sono state scoperte e denunciate anche persone condannate in via definitiva per reati gravi ma anche un cittadino straniero agli arresti domiciliari risultato proprietario di ben tre autovetture di lusso tra cui una Porsche di recente immatricolazione. L'attività testimonia l'impegno costante delle fiamme gialle bresciane che nell'ottica del contrasto degli sprechi di denaro pubblico operano a tutela del bilancio e la salvaguardia del sistema assistenziale statale con la finalità di garantire che le risorse pubbliche siano realmente destinate alle famiglie più bisognose.